è una semplice intervista per il giornale ho solo un paio di domande e lui com'è educato intenso intelligente ha degli interessi al di fuori del lavoro io sono un paleo antropologo sempre studiato uomini preistorici per dieci anni ho fatto scavi a cosa deve il suo successo nel 91 eravamo in mongolia e abbiamo di sotterrato dei dinosauri di più di cento milioni di anni fa sarà molto noioso farei l'amore con me adesso un amore sincero anche una travolgente passione fisica erotica illuminami allora era una cosa che ho veramente desiderato e voluto ardentemente ma è stata un po' casuale io sto cercando di capirti voglio soltanto avvicinarmi a te cos'è questa storia cleopatra una donna giovanissima e bellissima e perché è finita lei era la donna che aveva sedotto più famoso tra tutti i generali giulio cesare e che cosa vuole ora diventare una regina dell'impero romano oh mio dio hai scelto lei piuttosto che me ti è piaciuto sì anche a me